mister Laura Armani oggi in panchina per la spolitica di mister Seleman Laura insomma una partita che finisce 0 a 0 dove magari il Brescia avrebbe meritato qualcosina in più rispetto all'Arezzo che comunque era messo molto bene in campo sì primo tempo sicuramente avremmo meritato qualcosa in più abbiamo avuto un po' di occasioni che non abbiamo concretizzato e secondo tempo la partita si è un po' equilibrata però insomma sicuramente poteva meritare qualcosa in più magari abbiamo peccato un pochino negli ultimi 20 metri magari l'ultimo passaggio la conclusione la conclusione decisiva il cross azzeccato è mancato un pochino di precisione in fase finale è mancata un po' di cattiveria sul gol proprio secondo te ti chiedo cosa cosa mancava a questa squadra oggi al di là della della cattiveria quello che dici cioè mancava anche qualcosina d'altro ma no le ragazze sono state anche brave l'avversario non è che è arrivato qua così tranquillo sono state molto brave anche loro quindi insomma sono state brave a contenere a fare che c'erano messa tutta